partiamo da netflix e dalla seconda stagione di guida astrologica per cuori infranti la protagonista alice bassi poco più che trentenne single e assistente di produzione in tv scopre l'esistenza di una nuova strada per ottenere amore e successo grazie a tio la sua personale guida astrologica forse è arrivato il momento di crescere una seconda stagione anche su amazon prime video si tratta di upload la serie che racconta le avventure di un uomo di successo che dopo lo suo prematuro decesso avrà la possibilità di scegliere la sua vita dopo la morte ora su sky atlantic per la sesta stagione di billions la serie drammatica offre uno sguardo ravvicinato sul mondo dell'alta finanza descrivendo lo scontro tra due figure titaniche il procuratore chuck rhodes e il brillante ambizioso re dei fondi speculativi bobby axelrod quando vedo una grossa preda non posso abbassare il fucile su apple tv arriva gli ultimi giorni di tolomeo gray tolomeo è un uomo malato dimenticato da tutti e sull'orlo di sprofondare ancora di più in una demenza solitaria fino a quando viene assegnato le cure di un orfana adolescente discoraggio